Megalopolis è uno dei film più attesi dell'anno e i fortunati che sono ora al Festival del Cinema di Cannes potranno vederlo in anteprima assoluta mondiale in quanto Francis Ford Coppola ha deciso di rilasciare il suo ultimo lavoro proprio durante la Kermesse francese. Sto parlando appunto di Megalopolis che ha tirato l'attenzione di molti in quanto è uno dei prodotti più incredibili di Coppola e uno dei più agognati e sofferti insieme ad Apocalypse Now. Infatti il regista per realizzare questo progetto che è studiato da ben 30 anni ha dovuto spendere fior e fior di milioni di tasca propria in quanto nessuna casa di produzione aveva intenzione di finanziare questo incredibile progetto. Era il 1980 quando Coppola decise di iniziare a scrivere Megalopolis perché voleva iniziare questa incredibile creazione già negli anni 80. Purtroppo nessuno ha dato credito al regista che ha creato capolavori come il padrino e appunto Apocalypse Now altra produzione molto difficoltosa per Coppola che poi è stata incredibilmente remunerativa ed è entrata negli annali dei libri di cinema. Megalopolis potrebbe fare lo stesso percorso? Ancora non lo sappiamo, però dal primo trailer è veramente una gioia per gli occhi. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire di cosa parla Megalopolis e quanto potrebbe iniziare a circolare la voce e ad attirare l'attenzione del grande pubblico. Ma prima di tutto, sigla! Coppola ha voluto creare con Megalopolis un film distopico, futuristico, un mix tra la Roma antica e la modernità del futuro. Infatti durante il trailer vediamo una gara di bighe come si utilizzava nella Roma dell'antichità e anche molti degli abiti ricordano appunto questa Roma antica messa però su stili futuristici. Questa incredibile architettura messa in scena ricorda moltissimo Blade Runner come anche la fotografia del trailer che iniziamo a vedere. New Rome è la città del film nel quale è incentrato il film, è una città in decadenza e la trama gira su due protagonisti Giancarlo Esposito e Adam Driver che si contenderanno in una sorta di elezioni il controllo della città. L'uno vuole prendere il controllo di New Rome per iniziare a guidarla con come vuole lui la sua immagine e somiglianza mentre l'altro Adam Driver è un incredibile architetto visionario che vuole solo il bene della città e la vuole spingere ulteriormente nel futuro. È incredibile notare quanto Megalopolis è entrata nel cuore di Coppola tanto da spingerlo a vendere migliaia di ettari personali della sua vigna ricavandone ben 120 milioni di dollari. Soldi che poi ha speso per produrre il film in quanto come detto nessuna casa di produzione si era spinta fino ad accettare questo incredibile progetto. Altro discorso è stato appunto la distribuzione di Megalopolis che ha trovato molta difficoltà e non ha trovato inizialmente una casa di distribuzione ed infatti il Festival di Cannes è stato anche una vetrina per il film di Coppola per mettere in mostra come se Coppola avesse bisogno di mettersi in mostra e di mettere in mostra il suo lavoro per trovare una casa di distribuzione. Fortunatamente l'abbiamo trovata ma ancora non abbiamo una data italiana per sperare e iniziare il countdown e andando al cinema avvicinare questo incredibile progetto. Dal trailer sembra veramente qualcosa di magnifico, immenso le statue che prendono vita mettendo in scena quella che è la decadenza della città questi effetti fuori dal comune che fanno capire quanto questa New Rome sia soggetta all'alta tecnologia nello stesso tempo però è in decadenza in quanto colpita da quello che sembra poi un meteorite insomma non capiamo bene tantissimo dal trailer però la trama si incentrerà moltissimo su controllo della città e la faida probabilmente politica tra Giancarlo Esposito e Datan Driver un cast incredibile quello che troviamo in Megalopolis appunto partendo dai due protagonisti e passando per attori di un calibro incredibile quali Shia Leboeuf, Zendaya, Natalie Emanuel, Forrest Whitaker, James Caan, Dustin Hoffman, John Voight e molti altri se non erano dovrebbe esserci anche Brian Cox di Succession ragazzi Coppola ha deciso di fare le cose in grande e molto probabilmente questo film farà parlare in una maniera incredibile sia in negativo che in positivo perché vediamo come è riuscito a mettere in scena la sua idea però sappiamo storicamente parlando che quando una produzione di Coppola è così complicata piena di insidie e di ostacoli ci regala sempre del grandissimo cinema io lo spero vivamente e non vedo l'ora di guardare quest'opera mastodontica che Coppola ha deciso di regalarci e molto probabilmente sarà la sua ultima fatica alla regia e spero di vederlo al più presto qui da noi in Italia ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate del nuovo film diretto da Coppola quindi Megalopolis con un commento qui sotto e seguiteci trovate tutto in descrizione ai nostri canali social, facebook, youtube e instagram un abbraccio, buona giornata da Valerio Perrone e da Ciaccazione ciao a tutti